Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Questo video vuole essere il primo di un nuovo format che ho varato esattamente oggi. Ve l'avevo promesso, è quel format che si intitola In 7 minuti. È una spiegazione di qualcosa che nel caso di oggi è una coin, nonché un progetto molto interessante che è Cosmos Network, da cui la coin Atom, che molti di voi mi hanno chiesto Ma che cos'è? Ma da dove salta fuori? Ma ci spieghi, ci dici? Ecco, oggi ve lo provo a spiegare in 7 minuti. Come vi dicevo, il primo di una serie, quindi mi piacerebbe rendere periodiche queste pubblicazioni di video fatti diciamo in breve, quindi non più prolissi come al mio solito, ma dove vi spiego proprio il succo, dove vado straight to the point. E quindi ditemi che cosa vi piacerebbe approfondire, se avete qualche curiosità su qualche coin, qualche progetto, qualche aspetto della tecnologia di Bitcoin, insomma, qualsiasi cosa, scrivetemelo nei commenti. Prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video, i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un bel like a questo video, così che io me ne rendo conto, sono contento, mi date soddisfazione, sono sempre incentivato a produrre nuovi video. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, cliccate la campanellina, così vi arrivano le notifiche ogni nuovo video che faccio e siete sempre sul pezzo. Per essere ancora di più sul pezzo, iscrivetevi anche al mio canale Telegram, dove butto fuori un sacco di grafici, idea di trading, analisi, news, feed, insomma, tutto ciò che serve per essere un criptoinvestitore consapevole. Detto questo, iniziamo con l'argomento di oggi, ovvero Cosmos e EITON in 7 minuti. Ce la farò? Vediamo. Via al cronometro. Quindi andiamo a vedere che cos'è il Cosmos Network. Lo chiamo Network proprio perché è una rete, un ecosistema, come l'ho definito in queste due righe di introduzione, modulare di blockchain. Riuscendo a dividere il network in moduli che sono fatti ognuno da una singola blockchain, si riesce ad ottimizzarne performance e sicurezza, perché si ha una blockchain per ogni applicazione, a differenza, ad esempio, di Ethereum, che sulla medesima blockchain fa girare tutte quante le sue applicazioni. Ethereum appartiene alla categoria delle cosiddette blockchain 2.0, che sono quelle piattaforme in grado di eseguire programmi ed applicazioni, ovvero smart contracts piuttosto che dApps, ovvero decentralized applications, e nonché gestire transazioni in un consenso decentralizzato. La blockchain 2.0 ha tre limiti principali. Il limite numero uno è la scalabilità, la capacità di gestire un certo numero di transazioni nell'unità di tempo. appunto questo numero è fortemente limitato nelle blockchain 2.0. Il limite numero due è l'ottimizzazione. Come vi dicevo prima, una piattaforma come Ethereum, che deve far girare una numerosità elevatissima di applicazioni di diverso tipo sulla medesima piattaforma, non può essere ottimizzata per uno di quegli use cases lì, ma deve trovare un livello medio, diciamo così, passatemi il termine molto grossolano, di ottimizzazione che vada abbastanza bene per tutte. E lo stesso vale per la sicurezza, ovviamente. Il limite numero tre riguarda invece la governance. Per modificare un'applicazione, perché magari si trova un bug, piuttosto che si vuole aggiornare qualcosa, a livello di applicazione, quindi non a livello di piattaforma, serve comunque il consenso di tutta quanta la piattaforma. Cosmos si pone come passo avanti da questa blockchain 2.0, volta a superare questi tre limiti principali. L'architettura della Cosmos Network è fatta in questo modo. Alla base, partiamo dal basso, questi due blocchetti verdi, abbiamo networking inteso come i protocolli di rete, di comunicazione tra i diversi nodi, e il consenso, c'è un framework open source che si chiama Tendermind e Cosmos utilizza esattamente questo framework, tra poco vediamo cos'è in maniera più precisa, tra invece il substrato appunto dato da Tendermind e la SDK, che è il livello applicativo, il livello di sviluppo, abbiamo un ponte, chiamiamolo così, chiamato ABCI, ovvero Application to Blockchain Interface. Tendermind, come vi dicevo, è un framework, quindi un modello replicabile, utilizzabile da diverse piattaforme, diverse blockchain, tra l'altro, giusto per dirvelo, è il framework su cui si basa anche la Binance Chain. È un modello, come vi dicevo, facilmente replicabile che contiene i componenti di network e consenso, si definisce Blockchain Engine. Nasce con un consenso proof of stake, con un'elezione di nodi validatori e il cosiddetto algoritmo di Byzantine Fold Tolerance. Cosa significa? Significa che fino ad un terzo di nodi che hanno comportamento malevolo, ovvero che sono cosiddetti Byzantines, non vanno a inficiare la funzionalità della rete. L'SDK invece, che cos'è? Allora, SDK sta per Software Development Kit, quindi ha tutto quella suite, quell'insieme di cose necessarie a sviluppare sopra ad una piattaforma, quindi in questo caso sopra a Cosmos. Come vi dicevo, questa è la parte modulare, ovvero posso sviluppare blockchain che hanno specifiche applicazioni. È semplice sviluppare su di esso perché è possibile utilizzare una diversità di codici, non soltanto come ad esempio in Ethereum, Solidity, è addirittura possibile importare la codebase di altre blockchain in un modulo. È già stato fatto per Ethereum in un modulo che si chiama Ethermind. Infine, abbiamo l'Inter Blockchain Communication Protocol, che è quella parte che permette la comunicazione da una blockchain all'altra. Dobbiamo immaginarci appunto una rete, come può essere anche Lightning Network, dove i nodi sono collegati tra loro, ma non tutti con tutti, che altrimenti viene un casino atomico, ma viene creato una sorta di routing anche lì disponendo i nodi in maniera ottimizzata. Quindi ogni chain, che è un nodo, immaginiamo, possiede un light client delle blockchain adiacenti. Supponiamo adesso di avere due blockchain, una che si chiama A e una che si chiama B, vicine, che vogliono interagire tra loro. Ci sono quattro fasi principali. La prima, impegno dei fondi da parte della blockchain A, che supponiamo vuole mandare dieci token alla blockchain B. Quindi, i fondi sulla blockchain A, quei dieci token A, vengono congelati. Quindi, poi che cosa fa dopo averli congelati? Invia una cosiddetta prova di impegno, o proof of relay, alla chain B. La chain B valida questa proof of relay, controllando che effettivamente i fondi siano bloccati sulla chain A, e permette quindi il trasferimento cross-chain. Come avviene questo trasferimento? Fintanto che i token sulla chain A rimangono bloccati, viene creato un duplicato del token A sulla chain B. Una procedura che si chiama tethering. I token naturalmente seguiranno le regole del consenso della chain B, perché adesso è lì che si muovono, però sono legati ai token A bloccati. Una volta che dalla B li si rimanda alla A, questi qua sulla chain B vengono distrutti, e quelli della chain A vengono sbloccati. naturalmente se nel frattempo qualche token viene utilizzato ne verranno sbloccati poi soltanto in parte. Le connessioni inter-blockchain o IBC ovviamente vanno ottimizzate, perché come vi dicevo occorre creare un network efficiente. Per minimizzare il numero di connessioni, che è quello l'ottimo, si utilizza una cosiddetta architettura hubs-zones. Gli hubs sono delle blockchain effettivamente designate per fare da ponti. Le zones sono questi moduli invece, delle blockchain eterogenee, quindi qualsiasi tipo di blockchain. Il primo hub che è stato creato, che corrisponde al lancio del Cosmos Network, si chiama Cosmos Hub e ha il suo token, Proof of Stake, che è ATOM proprio, ed ecco qua che cos'è ATOM, per chi se lo chiedeva ancora. Perché qua vedete anche Bitcoin ed Ethereum? Non a caso, ma perché è possibile connettersi virtualmente tramite gli hubs, se vengono configurati ad hoc, con qualsiasi tipo di blockchain, anche quelle già esistenti, grazie al procedimento di tethering dei tokens. Spero che questa spiegazione vi sia risultata chiara, visto che l'ho dovuta affrettare un po', ma sono riuscito incredibilmente a stare nel tempo. Quindi vi ringrazio, se volete supportarmi vi ricordo che potete ... ... ... Grazie.